30 novembre è il giorno della festa della Toscana e l'amministrazione comunale di Cavriglia la celebrerà con una serie di iniziative racchiusa all'interno di un progetto dal titolo La scuola va a diritto che prevede tutta una serie di iniziative fino a tutto l'8 di gennaio, però questa settimana in particolare è densa appunto di eventi. Il primo appuntamento proprio il 30 novembre nelle scuole di Castelnuovo dei Sabbioni e Cavriglia dove il sindaco e la giunta incontreranno gli studenti regalando un quaderno, il cosiddetto quaderno dei diritti dedicato in maniera particolare alle riforme del codice leopoldino sui diritti civili e sui diritti umani, in particolare alla pena di morte. Dello stesso tenore sarà lo spettacolo teatrale, la performance teatrale prevista per giovedì 3 dicembre alle ore 10 nel teatro comunale di Cavriglia con l'attrice Caterina Meniconi, appunto dal codice del Granduca Leopoldo sulla pena di morte alle lettere dei condannati a morte di oggi. È una performance teatrale che cercherà di coinvolgere su questa riflessione così importante i nostri più giovani cittadini. Infine la settimana si chiuderà con il concerto della banda improvvisa con intitolato appunto Storie di Toscana, in quanto anche la musica ed in particolare la musica celebra questa festa civile così importante per tutti i cittadini della nostra regione. E per noi è un appuntamento doppiamente importante perché apre praticamente la stagione teatrale 2015-2016 del Teatro Comunale di Cavriglia.